Annullata ad Arezzo la premiazione del CONI che doveva conferire ad Alessandro Albertoni la medaglia d'argento per meriti sportivi pregressi nel campo del motociclismo. Albertoni è uno dei due ragazzi di Castiglion Fibocchi condannati in via definitiva a tre anni per la morte di Martina Rossi in conseguenza di altro reato. La giovane ad appena 20 anni perse la vita cadendo da un balcone da un hotel di Palma de Mallorca per sfuggire secondo la verità processuale ad uno stupro di gruppo. Quando la notizia della premiazione di Albertoni è arrivata a Genova i genitori sono rimasti basiti. Bruno Rossi e Franca Murialdo mi segnalano che a distanza di nemmeno un anno da una condanna a tre anni di reclusione, afferma l'avvocato Aretino che li segue Luca Fanfani, si può ricevere una benemerenza niente di meno che dal CONI per progressi meriti sportivi. Il tutto alla presenza delle massime autorità locali nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo siamo rimasti tutti senza parole. Non avevamo collegato quel nome ai fatti, afferma il delegato del CONI Alberto Melis, abbiamo congelato la premiazione e rimandato tutto a Roma. Poi nella tarda serata arriva la notizia, la cerimonia fissata per sabato prossimo 10 settembre nel palazzo della provincia è stata annullata. Si terrà soltanto la presentazione di Vivere lo Sport Arezzo-Abilia.